Ciao a tutti ragazzi, sono Neven, bentornati sul mio canale, eccoci qua con un nuovo video su EA Sports VRC E in questo finiremo il campionato... no, il... ah, oddio, il... come si dice? Il rally di Svezia, sì, il rally di Svezia E... oddio, non mi veniva... mi veniva campionato, gran premio, e vabbè, scusate Comunque, scorso episodio, tanta roba secondo me, sta Svezia mi sta piacendo veramente parecchio, come vi ho detto E... niente, non perdiamoci troppo in chiacchiere, pneumatici, metterei l'ultimo treno nuovo, tanto abbiamo le ultime due gare Andiamo un attimo... un occhio ai danni, in realtà solo un po' di carrozzeria, l'aggiustiamo? Ma sì, dai, l'aggiustiamola, va? Tac, ok, ottimo, fatto Quindi, ci vediamo alle gare, e poi noi ci sentiamo Quindi, io vi lascio alle gare, e ci sentiamo a fine video Dai, yeah Deve essere stata una manutenzione davvero efficace per gli ingegneri di questa crew L'auto è in condizioni quasi perfette Inizia 130, destra 3, buona fortuna 5, 4, 3, 2, 1 Via, 130 Destra 3, apre sull'osso, e avvalamento, 80 Dosso lungo E sinistra 3, 40 Destra 3, corta, non tagliare, 120 Sinistra 6, sull'osso, chiude lunga, in un dosso In destra 4, apre, 160 Stai a sinistra, sull'osso, 100 Sinistra 4, su salto, media, 120 Destra 6, su salto, 50 Sinistra 4, corta, 50 Ritarda destra 4, media, in un dosso, 80 Dosso, e alzendo destra, lunga lunga In sinistra 4, chiusura, media E destra 3 Di sinistra 4, apre lunga In sinistra 6, non tagliare, 110 Dosso, e destra 4, brusca Mi accendo sinistra, in un dosso Mi accendo destra E dosso lungo In sinistra 4, chiude, non tagliare, 70 Rallenta, destra 5, lunga lunga Intornante destro al biglio Sessanta, largo Ritarda sinistra 3, apre lunga, 80 Destra 4, non tagliare, apre, in destra su dosso In sinistra 5, apre lunga In sinistra 6, in un ponte In destra 5, sudosso, 40 Sinistra 2 In sinistra 3, media, apre, 30 Ritarda sinistra 2, media E accendo destra, non tagliare, 40 Accendo sinistra, 200 Destra 4 E sinistra 5, attenzione In un dosso E destra 2, apre, media, 40 Ritarda sinistra 3, lunga 120 Dosso, 80 Destra 3, corta Destra e sinistra, sudosso, 30 Destra 4, corta Sudosso, 40 Sinistra 6, non tagliare 120 Ritarda Sinistra 6, sudosso, 40 Destra 4, lunga, 120 Destra 6, 30 Sinistra 5, corta Non tagliare In ritarda Destra 4, 50 Ritarda sinistra 3, più nel lunga Non tagliare E destra 5, lunga, lunga Frena E al video secca destra Nascosta E sinistra 6, 240 Sinistra 6, chiude E ritarda E ritarda Destra 6, sudosso In accenno Sinistra 60 Stai a sinistra Sudosso 250 Anticipa Sinistra 6, sudosso 60 Accenno Destra Lunga 50 Ritarda Destra 5, sudosso Chiude E sinistra 4, corta Sudosso E destra 6 E sinistra 5, 80 Accenno Sinistra 50 Destra 6, sudosso Lunga 80 Stai a sinistra Sudosso 70 Accenno Sinistra Media 170 Dosso 70 Sinistra 5 Apre 70 Destra 4, corta Sudosso 90 Accenno Destra Sudosso 130 Rallenta Destra 6 Non tagliare 80 Gira Sinistra 1, corta 70 Accenno Sinistra sudosso 40 Dosso 100 Destra 4, brusca Sudosso E salto 40 Stai a sinistra Sudosso 50 Sinistra 5, brusca Sudosso 80 Dosso E salto In sinistra 6 Apre 80 Stai a destra Sudosso Piccolo 30 E stai a sinistra Sul salto Piccolo 90 Stai a sinistra Sul salto Grande 50 Accenno Destra In un dosso 70 Salto Piccolo 70 Sinistra sudosso 50 Destra 6 Sudosso Chiude 4 Corta Sul salto E sinistra 5 40 Ritarda Accenno Sinistra Lunga Lunga Sudosso 140 Ralletta Destra 6 Sudosso Chiude 3 Dopo Incrocio 120 Su arrivo In un dosso All'arrivo Ok Il tempo è di 5 minuti 41 3 Ci siamo quindi La tappa finale Di un grandissimo evento Superarlo in modo pulito E veloce Può avere enormi conseguenze Sui risultati generali Inizia 40 Destra 5 Buona fortuna 5 4 3 2 1 Via 40 Destra 5 Apre E accenno Sinistra 100 Stai a destra Su salto piccolo 40 Dosso 60 Destra 6 Su salto Apre Minun Dosso 100 Sinistra 6 Chiude 3 80 Dosso 30 Destra 6 Chiude 4 30 Accenno destra 40 Sinistra 4 Sudosso 50 Stai a sinistra Sudosso 180 Destra 4 Corta E sinistra 3 Sudosso Chiusura media 70 70 70 Ritarda destra 4 90 Sinistra 3 Corta 40 Sinistra 6 Sudosso 30 Destra 5 Sudosso 60 Accenno sinistra E destra 6 Corta 60 Dosso E dosso Lungo 30 Sinistra 3 Corta Sudosso 40 Destra 5 Rallenta 100 Albiglio secca Destra E dosso E dosso Sinistra 6 Apre Sudosso In un appallamento In sinistra 4 Sudosso Apre E sinistra 5 In destra 5 Sudosso E destra 4 Porta sudosso E sinistra 4 Apre Poi chiude Su appallamento In destra 5 Media Sudosso 40 Sinistra 6 Frena 60 Destra 2 Brusca All'incrocio E dosso Lungo In sinistra 5 80 Destra 6 Non tagliare E sinistra 2 110 Destra 4 Porta 50 Sinistra 5 In un dosso 70 Destra 3 E stai a sinistra Sudosso E accenno Destra E stai a sinistra Sudosso 180 Destra 6 Sudosso 130 Accenno Destra Su salto 40 Sinistra 5 Sudosso E stai a destra Su salto Piccolo 50 Dosso 70 Destra 4 Corta In sinistra 6 Frena 30 Destra 3 In sinistra 4 Apre 50 Destra 5 In sinistra 6 Chiude 3 Sudosso E destra 2 In sinistra 1 Tieni 60 40 Destra 6 Apre 40 Dosso 40 Destra 5 Corta E sinistra 5 40 Destra 4 40 Sinistra 1 Corta 30 Sinistra 4 E destra 2 Media 40 Sinistra 5 Porta 180 Sinistra 6 Sudosso Chiude lunga 40 Destra 6 Sinistra 5 Sudosso 120 Attenzione Attenzione Stai a sinistra Sul salto Grande 90 Accenno destra In indosso 40 Destra 4 Media 70 Accenno sinistra Chiude 3 Corta 30 Accenno destra Apre 40 In indosso 80 Sinistra 4 Chiude 2 Attorno Palla di pieno In destra Sudosso 40 Dosso E destra 6 Sudosso Molto lunga Tieni 60 Sinistra 4 Tieni 40 Destra 5 Lunga lunga Apre Accenno destra 30 Sinistra 4 Chiude E ponte 30 Al video secca Destra 40 Sinistra 5 Su arrivo In destra 5 All'arrivo Ok Stempo di 4 minuti 34 Vigola 8 Quindi signori Mamma quanto Mi è piaciuto Questo rally Di Svezia Vi giuro Mamma 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 mia Daie Daie Va bene Signori Non ci interessa Siamo primi in campionato Ok Ok Operazione 32k Vabbè Non mi sembrano eccessivi No Direi di no Qua Benefattore Non gliene frega un cazzo Del Del campionato Vabbè Onesto Budget Ok Tutto On point Obiettivo raggiunto Ottimo Ottimo Infatti Ve ne è fattore un po' cresciuto Quindi Diamo un occhio Giusto per Avere un'idea Mi sa che conviene fare Onestamente Quasi quasi A sto point Lo facciamo insieme Riposino Eh Sì Senti Devono riposarsi Zio Pera Quindi Perché poca energia Ancora uno di loro Ok Quando gliene frega un cazzo Grazie a Dio Ok Va bene Quindi Fammi da un occhio Ma c'è ancora qualcuno Con poca energia Ma sei un figlio di puttana Ma non si ricaricano di niente Ma scusami Tanto pare che non lo facevano Prendevo un altro ingegnere Zio Pera Ma si può? Si può prendere qualcun altro? No Mi sa che bisogna fare Questo per forza Eh sì Eh cazzo Saperlo Saperlo non li facevo riposare Ne compravo direttamente Ne ingaggiavo Direttamente altri Eh Oddio il gruppo B Mi farà un po' eccessivo Onestamente Beh potremmo fare ospitalità Che è un obiettivo Comunque vedremo nel prossimo episodio Vedremo Io vi ringrazio Per essere stati con me In questo video Spero che il video vi sia piaciuto Se così fosse Mi raccomando Like e commenti Importantissimo Per l'algoritmo Poi Anche l'iscrizione Che è la cosa più importante Per me Poi anche Campanellina E condivisione Che fanno sempre comodo Noi ci vediamo Un prossimo video Vi ringrazio per la visione Love you Ciao Grazie.